Ciao a tutti, in questo video vi voglio presentare le promozioni valide dal 1 dicembre 2016 al 3 gennaio 2017 dei negozi biologici. Ecco qua, questo è il volantino che poi andrò anche a fare la spesa domani perché oggi è festa. E allora, ci sono molte cose interessanti, per esempio i cannelli allo spinace e allo speck con lo sconto del 10%, 6,29€. Bio torinese al faro senza lievito, sconto del 16%, 2,67€. Poi, patelli, pomodori secchi, sconto del 15%, 2,08€. Vino bianco, prosecco, spumante, superiore di Vado Biadene, anime, brut, doci, g, senza solfiti aggiunti, sconto del 12%, 14,95€. Ecco, poi ci sono dal 28 novembre al 10 dicembre, spunto del 20% sulla frutta, il kiwi, broccoli, mele golde, radicchio, cremettine, cavofiori, arance e finocchi. Poi, dal 12 dicembre al 31 dicembre, è sempre sconto del 20% su frutta e verdura, kiwi, frutta secca, cremettine, arance, carciofi, patate, cavolfiori, finocchi. Poi, c'è lo sconto del 10% sui prodotti freschi dal 1 dicembre, dal 1 dicembre al 3 gennaio 2017. Per esempio, vabbè, non vi dico i prezzi, vi dico solo quali sono i prodotti che hanno lo sconto del 10%. La scamosa, lavorazione manuale, nostrano del guado al chilo, che è un prosciutto, no, un formaggio. Robiolino bio, taleggio dopo porzionato, mozzarella senza lattosio, mandorella al timo, veganella affumicata al basilico, bastoncini di pesce surgelati, filetti di agrefino surgelati, filetto di trota affumicato al chilo, bocconcini di lupino, pollo, petto a fette al chilo. Poi, wurstel di pollo, mini wurstel affumicati. Poi abbiamo macinato al chilo, il cotechino, le mie svizzere, biolab. Poi c'è lo speciale, sconto del 15%, sulla yogurt albicocca, banana, mirtigo e vaniglia, antico podere Bernardi. Questi qua. Sconto del 15%. Poi, e queste erano le offerte, poi ci sono le promozioni del mese, sconto del 20%, per esempio sul prosciutto cotto alta qualità, poi 15% sul rotolo assenatore, cappelli con mozzarella a basso contenuto di lattosio, e poi c'è sempre il 15% su yogurt e latte di capra alla vaniglia, al mirtillo a pezzi, poi sconto del 10% su spec preaffettato, il burro e il latte intero UHT, poi abbiamo 15% sugli gnocchi, poi 10% sulla panna senza lattosio, sul latte parzialmente scremato UHT, sui cannelli e al formaggio, poi 12% di sconto, GIO tipo greco, IO, scusa, tipo greco naturale, poi 20% di sconto sui frullini e cacao con gocci di cioccolato, e sulla pasta sfoglia fresca. Poi abbiamo 15% di sconto sui dessert di soia, la banana, la ciliegia e il mirtillo, li ho cerchiati, quelli che vedete cerchiati, li prenderò e poi farò il video, poi 10% sui frullini al cacao, e sul pettito di farro e riso, il 15% di sconto sui biscotti e la chino con gocce di cioccolato senza glutine, poi c'è lo speciale, 15% di sconto, sulle barrette a cranberry, al melograno, al mirtillo, mela e noci, date di arancia, e sulla barretta alle mandorle, questi qua. Poi, questi sono altri prodotti confezionati, c'è scritto, sempre offerte dal 1 dicembre al 3 gennaio. Allora, direi che sono quasi tutti, allora, 15% di sconto, biscotti con fiotti di avene, frutta, biscotti rustici, ciocco B al latte con riso, succo mio, mirtillo rosso, granola e cioccolato fondente, cacao cacao, questo qui, patatine rustiche, poi 10% di sconto sul muso della frutta, 15% cioccolato al latte con nocciole intere, sul ghi, burro concentrato e chiarificato, 10% pane, pizza e miele, rice natural, 20% di sconto, semola di grano duro, 15%, sempre 15% caffè macinato, poi 25% di sconto, bio avena drink cacao, farina di polenta taragna, 15% e anche il caffè macinato, 100% arabica in cialde, 20% di sconto, bevanda di soia naturale, 20% di sconto, gallette di grano saraceno, caffè macinato di capeinato, 16% di sconto, sconto del 20% sul succo al mirtillo, e sulle gallette di mais integrale. andiamo avanti, adesso vi dico insomma i sconti più eccezionali, ecco, i confezionati da non perdere, le promozioni del mese, allora, 20% di sconto su spaghetti, conchiglie, caserecce, fettuccine, fusilli, pen integrale di farro, le farrette, 15% sui cappelletti a seitan, sui tortellini alla carne, sul preparato per pizza focaccia per dolci, per pane con grano saraceno senza glutine, prodotto dispensato dal sistema sanitario nazionale, 15% di sconto, crema di aceto balsamico di aceto di mele, e 20% di sconto al pesto da genovese. Poi, meta tensione, 21% di sconto sul grano saraceno, caserecce, fusilli, maccheroni, e poi, ecco, diciamo che, vabbè, c'è sempre il solito 15% di sconto, 10% su altri prodotti, poi, 30% di sconto su maio riso, bio nature, poi c'è lo speciale, back ferment, fermenti per panificazione senza riedito, sconto del 10%, poi consigliano i due effetti lifting, e il serum pulissimo organo e ristrutturante anti-age, ma io vi consiglio quelli di Vita Italia, ecco, ho fatto quelli che non sbagliate mai, poi, bio per tutti, una sciata di qualità a prezzi vantaggiosi, prenderò le uova, 6 pezzi, con lo sconto del 24%, poi prenderò il litro simbolifido per piatti soviglie, profumo lime, un litro, 19%, poi vediamo, qua, 18% di sconto, l'aceto di mele, il 28% di sconto, RIS Natural Premium, bauletto, 6 per un litro, e i cracker, 20% di sconto, cracker di farro senza riedito salati, senza granelli di sale in superficie, succo di mela, 18% di sconto, polpa di pomodoro, 12%, amaranto, 10%, il veg burger, 22% di sconto, preparato per polpette vegetali, body care bagno doccia, 26% di sconto, il body care shampoo per lavaggio frequenti, a noi pantenolo, 26% di sconto, 19% di sconto per i tortelloni alla ricotta, il 28% di sconto per il pane bauletto farina integrale, poi non so se l'ho detto, il 29% di sconto, seitan alla piastra, ecco, queste sono le offerte dal primo dicembre a 3 gennaio, e domani andrò a fare la spesa, e vi mostrerò i prodotti, ciao, alla prossima!